E' indubbiamente ancora lontana dal suo standard migliore la Juventus vista oggi a Verona, dove non ha saputo andare più in là di uno scialbo 0-0. Un risultato che, va subito detto, rispecchia fedelmente l'andamento della partita, nel complesso nulla più che mediocre. Un pareggio che premia soprattutto l'accorta tattica dei veronesi, i quali pur avendo badato soprattutto a difendere, lo hanno fatto con determinazione e abilità, giungendo al fischio di chiusura senza avere praticamente sbagliato nulla. Il male oscuro della Juventus, ammesso che di male oscuro si possa parlare, non è certo facilmente diagnosticabile. Resta il fatto in ogni modo che i bianconeri si sono visti troppo spesso portare la palla e che le loro punte non hanno ancora ritrovato la necessaria incisività, così che la manovra ne risultava rallentata e priva di quella irresistibilità che la distingueva un tempo. Come logica conseguenza il grande attaccare degli juventini sia pure attuato da tutti, col massimo impegno. Non l'ha dato e forse non poteva dare frutti, anche per l'acume difensivo di cui si è detto dei veronesi, che hanno saputo chiudere quasi tutti i varchi, limitando al minimo i pericoli. E infatti se Zoff è rimasto disoccupato per tutti i 90 minuti, Superchi in ottima giornata non è stato chiamato a interventi risolutivi, che in pochissime occasioni, di cui abbiamo già visto quelle del primo tempo. Nella ripresa, dopo questo tentativo del rinfrancato Virdis, i veronesi contrastano più decisamente il predominio territoriale juventino e si affacciano con maggiore frequenza anche se timidamente nella metacampo avversaria. Si registra ancora un tentativo di Virdis, cui risponde con bravura Superchi, ma sono poi i padroni di casa Veneti a portare un certo scompiglio nell'area juventina. Gli ultimi brividi vengono da Gentile e ancora da Virdis. Poi più nulla e la gara si chiude sul più logico degli 0-0.